Le convenzioni sono un'ulteriore opportunità per quanto riguarda i nostri associati in regola con i contributi associativi per poter avere dei vantaggi su diversi campi, soprattutto per l'attività proprio imprenditoriale che hanno. Partiamo dai ticket restaurant che hanno dei vantaggi fiscali notevoli per quanto riguarda gli imprenditori ma anche per i dipendenti che magari sono in uscita. Andiamo alle convenzioni con gli auto e con i veicoli commerciali di diversa natura, diverse marche molto importanti abbiamo delle carte carburanti per cui anche questo serve per le vostre aziende e andiamo anche all'agenzia viaggi, ne abbiamo di diverse tipologie anche per l'elettronica soprattutto per il registratore di cassa che ultimamente sono un'impellenza per quanto riguarda molte delle nostre imprese. Abbiamo anche quelle per le informatiche con Eolo, abbiamo l'elettronica con Samsung, abbiamo anche la Custom, la Epson quindi abbiamo cercato insieme ai colleghi della Confederazione di avere delle convenzioni che possano essere veramente utili allo sviluppo imprenditoriale o di supporto più che altro per tutte le imprese. Naturalmente queste convenzioni permettono dei vantaggi soprattutto nell'acquisto e anche nel noleggio. Per maggiori informazioni sicuramente potete vedere il nostro sito www.apaconfartigianato.it se invece volete direttamente sapere nel dettaglio delle convenzioni che andrete a vedere sul sito